Una volta completato l'ordine e inviato, in qualunque momento potrete andare qui sulla cartella documenti, cartelle e andare a controllare i vostri ordini o semplicemente come archivio controllare cosa avete ordinato anche negli anni passati o negli ordini precedenti. In questo momento io anche se clicco su non compare niente perché il mio ordine non è stato ancora verificato e convalidato quindi la schermata rimane vuota. Infatti come potete vedere non compare nessun ordine. Non ci resta altro che uscire adesso dal sistema andando a cliccare sulla finestra qui in alto.